Dal 6 all'8 maggio la città di Urbino si animerà di musica, installazioni video, animali immaginari e boschi visionari che prenderanno vita, creando percorsi suggestivi tra mito, creazioni futuristiche, improvvisazioni teatrali e simposi, ma anche tanti concerti in un'atmosfera conviviale unica grazie agli innovativi contenuti di Eletzeia, il festival ideale. Diversi luoghi del centro storico si riempiranno di luci e voci, poesie e messaggi in movimento. La Tre Giorni all'insegna della creatività coinvolgerà decine di artisti che giungeranno da ogni parte d'Italia per la prima edizione di questo festival, che prende il nome da un termine antico in lingua greca e che significa rivelazione. Cristina, con quale intento è nato il festival? Abbiamo pensato che dopo due o tre anni, come quelli che tutti abbiamo vissuto, inutile a dirsi, c'era bisogno di raccontare in qualche modo la verità. L'uomo l'ha sempre cercata, ma l'arte ancora di più, quindi per questo abbiamo pensato di chiamare questi 80-85 artisti da tutta Italia, che nella città ideale cercheranno di svelarla e di raccontarla al pubblico. Il primo appuntamento sarà alle ore 16 con un'anteprima al Circolo Cittadino, a cui seguirà la presentazione e l'avvio ufficiale del festival, che prevede un ricco programma di iniziative, tutte ad ingresso gratuito. Molti eventi a sorpresa, si inizia appunto, come dicevamo, con l'avvio del festival, venerdì 6 alle 17.45 salendo da Piazza Mercatale, ci saranno quindi degli eventi dentro la rampa. Il sabato mattina, quindi il 7, alle ore 11, al Collegio di Palazzo Raffaello, ci sono le inaugurazioni delle mostre. Abbiamo organizzato il sabato alle 12.45, c'è un simposio in stile proprio antica Grecia. Dopo ci sono tutti i concerti musicali all'ex monastero di Santa Chiara. Il festival è patrocinato dal Comune di Urbino e il programma completo è consultabile anche sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Per me è un felice ritorno sulla scena in chiaro, dopo aver tenuto in questi mesi, anzi in questi anni, house concert semi-clandestini, ritornare in chiaro con degli esimi colleghi, che anche molti di loro non si sono piegati a questo ricatto, e quindi sarò veramente in buona compagnia con altri artisti, colleghi come i musicisti di un grande gruppo come gli Entenitti, di cui Gino Ape ho avuto modo di averlo nel mio festival, Teatro Libro del Monte Nerone, Marco Candida con un bellissimo omaggio a Dostoievski, e la pietrice ucraina Grabeniuk, Vincenzo Sparagna, creatore del grande Frigider, una rivista filosofica dissacrante, che è veramente stata una pietra migliare, un mito si può dire, del nostro tempo. E proprio al mito è dedicata questa edizione del festival, mito inteso anche come simbolo, come qualcosa che rimane, che permane e che passa attraverso i secoli, i secoli che hanno a che fare con una tradizione di cui gli artisti sono depositari, interpretando sia il presente ma anche il passato e tutto quello che ha provveduto a formare il loro essere, la loro personalità artistica, che cercheremo di riportare al pubblico che verrà a vederci in questo simposio di arti, cultura e cose imprevedibili che avremo il piacere di vivere insieme a voi.